Ciao cari amici, dunque oggi in questo video cercherò di spiegarvi cosa sta accadendo nella direzione di Kursk, nella regione di Kursk. Come sapete dal 6 agosto è stata occupata questa regione, la parte di questa regione delle forze ucraine è stato sicuramente un passo molto negativo per l'esercito ucraino, molto distruttivo. Come ho detto io all'inizio di questa disavventura cari amici si tratta di un suicidio di massa, in pratica il presidente ucraino Vladimir Zelensky o come noi lo chiamiamo in maniera ironica Sniffolo per la sua tendenza di sniffare tutto ciò che può essere sniffato, lui ha preferito per l'ennesima volta mettere la politica al di sopra della strategia militare e quindi se prima lui applicava all'esercito ucraino gli ordini veramente draconiani, gli ordini poco rispettosi nei confronti dei militari ucraini quando si trattava di mantenere le posizioni nelle città che lui definiva le roccaforti, come voi ricordate Mariupal, Bakhmut, Avdevka, recentemente anche Tarjezka è entrato in questa categoria dove si sta combattendo adesso, oppure appena crollato Ugledar anche può essere citato come una di queste città trasformate nelle vere e proprie Tritacarni. Nella regione di Kursk Volodymyr Zelensky ha amplificato la tragedia e il disastro che l'esercito ucraino ha sperimentato in queste città che vi ho appena citato. Per quale motivo ha amplificato questa tragedia? Perché ha amplificato la dimensione degli scontri, la dimensione anche dal punto di vista numerico dell'impegno dei militari, un'enorme quantità dei militari, cari amici un gruppo tattico che è stato spinto da ucraini nella regione di Kursk. In tutto contava all'inizio della preparazione di questa operazione 20 mila uomini, un po' di più di 20, circa 21 mila e qualche centinaio. Prima ondata sono andati 7.000 e qualcosa, poi 11.700 la seconda ondata e piano piano sono stati trasferiti praticamente tutti in questo territorio. Per quale motivo così grande trasferimento di forza e così poca efficacia? Praticamente dopo prime due settimane non ci sono stati più i progressi, ma le forze sono penetrate in questo territorio come se fossero progressi avanzate in qualche direzione. Questo succede, cari amici, perché le forze che venivano portate nella regione di Kursk dovevano prendere parte di quelle che venivano completamente distrutte e eliminate dai russi. Quindi noi non stiamo parlando di rafforzamento, di un pugno d'attacco dei gruppi corazzati, mobili che stanno andando verso qualche direzione, che poteva essere ad esempio la direzione della centrale nucleare di Kursk che si trova nella cittadina di Kursk e se voi guardate la mappa si trova proprio a nord rispetto al movimento di questo cuneo, di questo triangolo delle forze ucraine che si sono schierate nella regione di Kursk. Però gli ucraini non sono riusciti a spingersi oltre a un certo punto, il massimo a cui sono riusciti a arrivare in due settimane è un territorio che stava proprio sotto la città di Kursk. Da lì loro sono riusciti a sparare con artilleria, utilizzando anche artilleria a razzo per sparare contro la centrale nucleare e anche addirittura sono arrivati a sparare contro la città di Kursk, addirittura fino alla città di Kursk che è un po' più distante si trova. Comunque sono riusciti a bombardarlo utilizzando l'artilleria a razzo ma cari amici non sono stati in grado di proseguire avanti. Questo cuneo di attacco che avrebbe dovuto essere mobile ma è stato completamente bloccato dalle forze militari russi già a partire dalla seconda settimana dell'invasione, per cui qua bisogna dire che la strategia dei russi è stata in questo senso abbastanza geniale. L'esercito ucraino sperava di ottenere due importanti vittorie strategiche con questa operazione. Io sono convinto che questi erano le basi dei loro piani operativi. In primis dovevano assolutamente raggiungere la centrale nucleare. La centrale nucleare di Kursk avrebbe dovuto diventare nei piani degli ucraini e se vogliamo essere più precisi cari amici nei piani dei loro padroni occidentali perché noi sappiamo benissimo che questa operazione è stata preparata dalle anglosassoni. Stessi militari ucraini che sono stati imprigionati dai russi dopo prime settimane della presenza sul territorio della regione di Kursk hanno raccontato nei loro interrogatori che sono stati addestrati sul territorio della Gran Bretagna, che gli addestramenti avvenivano anche all'interno delle aree dove sono stati ricostruiti alcuni elementi dell'architettura e del territorio della centrale nucleare di Kursk. Quindi li stavano preparando per assaltare questa centrale nucleare. Per quale motivo? Questa centrale nucleare doveva diventare una moneta di scambio con la Russia, con la quale gli ucraini speravano di ottenere una serie di vittorie tattiche e anche strategiche. In primis far tornare a casa, diciamo, in Ucraina il controllo della centrale nucleare di Zaporozhye. Se voi russi volete che noi lasciamo la vostra centrale di Kursk nella città di Kursk, Shatav, senza farla danneggiare, senza esplodere, senza creare una devastante catastrofe tecnogena, voi ci dovete ridare indietro la centrale nucleare di Zaporozhye. È più che logico. E poi ovviamente speravano anche a radrezzare la linea nel Donbass, ciò che era il loro problema grave e la perdita di diversi roccaforti. Una delle ultime e più importanti roccaforti era Avdeevka. Quindi loro speravano di costringere i russi di ritirarsi fino a una certa linea. Io non so quali erano piani di sicuro degli ucraini, però se loro volevano ottenere la centrale nucleare di Zaporozhye, sicuramente avrebbero dovuto garantire una certa sicurezza delle aree circostanti, evitare che la stessa centrale e le aree circostanti possano essere circondate dai russi. Per questo avrebbero dovuto per forza radrezzare la linea e quindi costringere i russi di rilasciare certi territori. Per questo motivo sicuramente Avdeevka e anche alcuni insediamenti nella regione di Lugansk e anche nella stessa regione di Kharkov avrebbero dovuto essere lasciate dai russi. Questo era il piano, una parte di piano originale, quindi prendere la centrale nucleare, trasformarla in una moneta di scambio con i russi. E poi il secondo piano è attirare le forze russe nella regione di Kursk, spostarli, costringere i russi di spostare i propri militari dal Donbass e quindi con questo bloccare l'avanzata dell'esercito russo nel Donbass che ovviamente già all'epoca, già all'inizio di agosto era chiaro che i russi stavano numerando nelle roccaforti importanti, stavano numerando Ugledar, a Khurahava, a Pakrovsk nella regione di Donetsk. Questo ovviamente avrebbe messo e adesso lo vediamo che ha messo in effetti gli ucraini in una posizione catastrofica e quindi loro speravano di risolvere queste problematiche gravi con un'azione audace, spregiudicata sul territorio di Kursk. Un'azione talmente idiota, cari amici, dal punto di vista militare che i russi effettivamente fino all'ultimo non ci hanno creduto che gli ucraini veramente faranno questo suicidio. Diciamo che gli ucraini sono stati spinti dal loro comando, dal loro componente politica verso questa disavventura anche perché Zelensky aveva bisogno di un'informazione positiva attorno alle sue visite nell'Occidente. Lui ha preparato l'ennesimo piano per ottenere in cambio i soldi dagli occidentali. Oltre ai soldi lui voleva ottenere due cose molto più importanti, ovvero l'entrata, l'ingresso dell'Ucraina e della NATO e anche permesso dall'Occidente di utilizzare contro la Russia di missili a lungo raggio. Per questo lui aveva bisogno di dimostrare alle occidentali che in effetti gli ucraini stanno avanzando, stanno ottenendo vettoria e così via. Quindi se voi ricordate prime settimane di questa invasione nella regione di Kursk si sono anche stati circondati da notizie molto positive, entusiastiche, dalla propaganda filo nazista anglosassone, filo NATO, tutti dicevano che grande vettoria, ma che bravo presidente Zelensky, gli ucraini stanno avanzando, stanno conquistando russi, i russi sono deboli, le loro frontiere stanno crollando e così via. Poi dopo due settimane, diciamo quando hanno visto che i russi non hanno alcun problema di bloccare gli ucraini e iniziare a fare dei danni a loro e quando si è capito che l'avanzata Ucraina non sarà in nessun modo portata avanti, che si è impantanata e si è bloccata in un territorio, cari amici, molto difficile per le operazioni militari. Un territorio su cui sono entrati gli ucraini è un territorio dove non ci sono le infrastrutture industriali che possono essere trasformate nelle roccaforti locali, i villaggi dei contadini che in gran parte sono presenti su questo territorio come strutture urbane non sono adatti neanche per le difese a lungo termine, crollano molto veloce perché come sapete vi ho già raccontato più di una volta, la casa di un contadino non regge i colpi di artilleria, all'interno di costruzioni del genere è molto complicato creare dei punti fortificati, un'unità militare che crea un punto fortificato in un villaggio contadino, in una casa contadina ha una durata di uno massimo due ore di battaglia diretta, poi dopo li coprono con artilleria, mandano un drone, adesso i russi lo fanno in maniera veramente veloce tutta questa procedura, quando vedono che in qualche casa c'è un punto fortificato, c'è un militare con una metragliatrice pesante, c'è uno con lancia granate, forse anche nel cortile c'è un mezzo corazzato, i russi non stanno lì a fare tante cerimonie, mandano subito un drone, il drone ne dà in tempo diretto coordinate, corregge il lavoro di artilleria, arrivano 3-4 colpi di obice da 152 mm trainante da campo oppure un obice semovente, tanto i russi ne hanno in abbondanza di queste armi, i russi prevalgono in queste armi sugli ucraini e tutto finisce, tutti muoiono, tutto viene distrutto, i russi vanno avanti, gli ucraini hanno perso, quindi le costruzioni in questo territorio non sono adatte a una guerra lunga, poi si tratta di una pianura cari amici, non ci sono colline, non c'è un posto dove puoi mettere un'artilleria avere prevalenza sul nemico, è la cosa più brutta che può essere per i militari, ovvero il campo aperto, soprattutto per la guerra di oggi che ha bisogno di una logistica costante, logistica deve lavorare 24 ore su 24, percorrere le strade, portare ai riparti operativi tutto quello che loro hanno bisogno, soprattutto per essere mobili, perché la guerra di oggi, in differenza delle guerre di ieri, non è una guerra statica, non si sta all'interno delle trincee, aspettando quando arriverà il comandante con fischietto, poi tutti bevano 100 grammi di alcol, si annebbiano la mente e gridando hurà si buttano all'attacco, come succedeva nella prima e in parte anche nella seconda guerra mondiale. adesso la guerra è completamente mobile, non ci sono più combattimenti di posizione, quando ci sono combattimenti di posizione si fanno soprattutto con la controbatteria, con lavoro di artilleria a lunga distanza, 20-25 km, i militari ormai non vedono l'un l'altro quando stanno su posizioni fissi. E quindi nella regione di Kursk la cosa più importante per gli ucraini è la mobilità, perché non hanno roccaforti che le possono permettere di prendere posizioni fisse, non hanno le posizioni rinforzate e preparate precedentemente, loro sono in mezzo a un territorio molto difficile da gestire dal punto di vista difensivo, quindi devono muoversi, devono sfruttare la loro capacità di manovra. Capacità di manovra non ce l'hanno perché hanno poca logistica, perché hanno poca logistica? Perché la logistica Keremici fa difficoltà di lavorare in una zona dove ci sono dei campi agricoli aperti, perché i russi vi vedono, non c'è possibilità di nascondersi, non è una foresta, non è una zona collinare, non è una zona dove ci sono tante strutture urbane dove si può nascondersi con la macchina, aspettare se si vede un drone scappare dal drone, sei in mezzo al campo e sei sempre sottoposto a pericolo di attacco dall'aria, attacco dalla terra. Quindi logistica ucraina fa fatica a lavorare, questo ha portato alla mancanza di rifornimenti di gasolio, tanti mezzi militari ucraini sono fermati, ci sono stati casi dove i russi semplicemente arrivavano con due taniche di gasolio, li buttavano nel mezzo ucraino abbandonato e portavano questo mezzo via, quindi non dovevano neanche conquistarlo in combattimento, ucraini semplicemente lo abbandonavano perché non avevano gasolio per portarlo avanti. Quindi cari amici, questa in grande linea è la situazione ucraina, loro non sono riusciti a ottenere quello che desideravano dalla regione di Kursk, sono in grave situazione, fanno fatica a difendere i territori nei quali loro sono stati bloccati e fermati dai russi e i russi sono andati all'attacco tre giorni fa. Come vi ho già raccontato è stato veramente inaspettato questo attacco a catena che è stato svolto dalle unità di 155esima brigata marina della flotta del Pacifico, del 118esima brigata di forze speciali Ahmad e così via. 155esima brigata in particolare è attaccato in due colonne, loro andavano sull'autostrada Carinieva-Sugia attraverso Zilone-Sgliach e la seconda colonna girava da parte sud attraverso il villaggio Tolsteluk, hanno circondato la prima guarnigione ucraina a Lyubimovka, hanno bloccato la loro disperata, disperato tentativo di ritirata quando gli ucraini hanno capito che sono bloccati, hanno provato di uscire da questo accerchiamento tattico, non sono riusciti, i russi hanno distrutto la colonna che è stata mandata in avanscoperta e gli ucraini hanno dovuto nascondersi nel villaggio. Così si è creata la prima sacca tattica, lì in questa prima sacca tattica, cari amici bisogna dire per via di particolare ostilità tra i militari perché i russi stavano avanzando dalla direzione dove gli ucraini hanno commesso tanti crimini contro i civili, fucilazione dei civili, hanno sparato contro i civili in fuga, hanno torturato alcuni civili e poi hanno portato diversi civili in prigionia sul territorio ucraino dove adesso questi sono tenuti nei campi di concentramento improvvisati all'interno di alcune strutture e ovviamente i russi sono andati lì con intenzione di non lasciare scampo a nessuno per cui in questo particolare sacco i russi hanno preso pochissimi prigionieri, tantissimi militari ucraini sono stati massacrati. Io ieri ho condiviso un video che arriva da lì, un video che è stato girato proprio dai militari della 155esima brigata dove loro dimostrano che di tutte e centinaia di uomini che sono stati circondati in questa zona i russi hanno preso vivi solo due e loro lo dicono apertamente, i russi affermano questa cosa, nel video dicono noi vi ammazzeremo tutti, vi faremo a pezzi, quindi se volete salvare la vostra pelle vi conviene di scappare e andare via dalla nostra madre patria, dalla nostra terra perché noi arriveremo, vi prenderemo, se entreremo in contatto di fuoco con voi non ci sarà la possibilità di arrendersi, per noi voi siete criminali, siete nazisti, avete fatto crimini contro i cittadini civili quindi sarete per questo uccisi. Un messaggio molto diretto senza nessun tentativo subliminale e ci sono in questo messaggio video di enorme quantità dei cadaveri dei militari ucraini che i russi hanno ucciso all'interno di questa sacca, quindi in questa sacca cari amici c'è stato un vero inferno. Contemporaneamente a nord le unità russe, lì c'era 118esima brigata, hanno colpito la guarnigione ucraina di Olgavka, anche loro, anche ad Olgavka, gli ucraini sono stati talmente sorpresi da questa avanzata dinamica veloce dei russi che non hanno fatto in tempo neanche far uscire i mezzi per una ritirata, quindi loro sono stati accerchiati anche lì e anche lì ci sono stati parecchi militari ucraini uccisi, alcuni sono riusciti a deporre le armi e si sono resi ai russi, diciamo in questa direzione, da questa sacca più militari ucraini sono riusciti a salvarsi. In tutto la quantità totale dei militari ucraini che sono finiti in questi due sacche a Olgavka e nei pressi di Tolsteylug, Ziloni-Schlach, il numero totale è di 1500 uomini, un po' probabilmente di più perché a parte le brigate e le unità di base c'erano anche i riparti operativi che sono stati mandati lì al sostegno di queste brigate e non si sa un numero esatto di questi riparti operativi, comunque cari amici in grande linea il numero è questo, attorno a 1500 persone, questo lo confermano anche le fonti ucraini, di recente di questo parlato anche il generale ucraino Krivanov, che adesso rivela parecchi interessanti informazioni pur di andare contro Zelensky, quindi prendiamo come buoni i dati che lui riferisce. A est ci sono stati anche movimenti perché adesso vi ho parlato del crollo della parte sinistra, della parte ovest di questo cuneo, di questo triangolo ucraino nella regione di Kursk, a est però ci sono stati anche movimenti, le colonne russe lungo l'autostrada, il Gov Suja, sono entrate a Malalokna che l'esercito ucraino aveva trasformato in una potente fortificazione, è stata presa d'assalto e lo scopo di questa operazione è quello di tagliare all'esercito ucraino le strade asfaltate nelle condizioni del disgelo autunnale che sta per arrivare, chiamiamolo disgelo, in Russia lo chiamano disgelo, in realtà si tratta di ovviamente situazioni che si forma sulle strade per via delle piogge che adesso dovrebbero arrivare. Voi sapete che il mese di ottobre è il mese complicato perché cominciano piogge, cominciano freddi di notte, quindi di notte un po' si gela la strada, di giorno esce un po' di sole, la strada diventa coperta da questa fastidiosa melma, è molto complicato spostarsi sulle strade di campagna non asfaltate, quindi per la logistica ucraina la perdita delle uniche strade asfaltate, unici percorsi sicuri che loro potevano fare per rifornire i propri militari che si trovano soprattutto nella parte nord di di questo cuneo, adesso la parte più minacciata dell'esercito ucraino è proprio quella, nei pressi di Olgavka nella direzione del nord, loro rischiano di essere tagliati e presi in un grande cerchiamento, proprio un vero e proprio calderone strategico come lo chiamano nella terminologia militare russa e questo è già stato fatto, i russi hanno già tagliato queste strade, quindi possiamo dire tranquillamente con tutta sicurezza che gli ucraini hanno perso le strade asfaltate, adesso finché c'è la possibilità, finché non c'è ancora grande fango loro riescono a utilizzare alcuni percorsi nei campi, però cari amici già tempo comincia a cambiare e quindi presto queste strade non saranno percorribili, si potrà percorrere alcuni parti di queste strade con mezzi cingolati, però cari amici bisogna andare molto lenti, poi mezzi cingolati ucraini sono sempre di meno e sono di produzione occidentale, cari armati challenger non riescono a girare nel fango di quel tipo, anche Abrams americani, anche Leopard non ce la fanno, i blindati leggeri come Marder oppure come M113 di vecchia data statunitense, anche loro non sono in grado di attraversare questo fango, loro l'hanno dimostrato ampiamente l'incapacità di girare sulle strade fangose nel Donbass e a rispetto di Donbass Kursk è peggio ancora perché nella regione di Kursk cari amici è proprio l'agricoltura, cioè lì i campi che sono arati per centinaia di anni, per questo motivo in questa zona appena scende pioggia, la gente si sprofonda fino al ginocchio nella terra, la terra è troppo morbida, la terra è buona per agricoltura, infatti la chiamano terra nera di Kursk proprio per questo, è famosa per la sua fertilità e lì non si può percorre il territorio con nessun tipo di mezzo, per questo motivo noi possiamo già dire che con queste azioni i russi hanno già messo praticamente a K.O. il servizio della logistica ucraina, per il raggruppamento dell'esercito ucraino nella parte nord del territorio occupato della regione di Kursk hanno l'importanza assoluta le strade che formano angoli a Selonischliach, Malaya, Lohna e Asugia, quindi loro formano una specie di triangolo un po' storto, ma comunque sono tre grandi percorsi, grandi strade con angoli in questi villaggi, questi luoghi che vi ho citato, il controllo di Selonischliach e Malaya Lohna che adesso i russi stanno effettuando e un'avanzata di successo da questi villaggi consentiranno all'esercito russo di bloccare completamente la via di rifornimento delle formazioni ucraine e ovviamente una volta, cari amici, bloccata la logistica voi vedrete che il fronte crollerà da solo, cioè gli ucraini cominceranno ad andare via da soli, perché loro non ce lo faranno a rimanere in un territorio dove non c'è la difesa, dove bisogna essere mobili senza un rifornimento della logistica che viene effettuato almeno uno o due volte in 24 ore, anche se in realtà dovrebbe essere continuo, dovrebbe arrivare alla logistica ininterrottamente, però gli ucraini comunque non ce la faranno in nessun modo. Questa, diciamo, cari amici, è la direzione principale per i russi nella regione di Kursk ma comunque a parte questa direzione i russi stanno avanzando anche in altri settori che sono meno importanti dal punto di vista di controllo dei percorsi di logistica come di recente ha detto anche Aptia Laudinov, vice capo della direzione principale militare e politica del ministero della difesa russo e anche comandante delle forze speciali Ahmati io più di una volta vi ho citato questo uomo, è un vero generale da combattimento sempre con giubbotto antiproietti, le armi in mezzo ai suoi pretoriani, sempre in prima linea sporco, stanco, ma molto obiettivo e onesto, quest'uomo sempre racconta in modo chiaro ciò che sta succedendo e bisogna dire che nessuna delle sue analisi, delle sue discrezioni ha mai dimostrato di essere sbagliata cioè lui non è mai sbagliato, perdonatemi, non è mai sbagliato nelle sue previsioni e Aptia Laudinov proprio ieri ha parlato in grande linea su ciò che sta succedendo lui ha detto che sta succedendo che abbiamo fatto un'avanzata talmente fulminea che gli ucraini non erano pronti siamo arrivati da dieci direzioni contemporaneamente ovviamente le direzioni più importanti sono quelle di cui vi ho raccontato adesso sono direzioni che hanno bloccato il percorso della logistica ma non sono meno importanti anche altre direzioni dove i russi sono avanzati zona di Mikhailovka, Martinovka, Veslavoye, Plechava che è stato assaltato in maniera brillante a Plechava i russi hanno effettuato un assalto dinamico che veramente si può prendere e metterlo nei libri dell'Accademia Militare per insegnare come si fa un assalto con supporto del gruppo corazzato un assalto classico delle unità motorizzate queste azioni cari amici sono state svolte per sostenere le avanzate sulle direzioni principali per evitare che gli ucraini possano avere le margini di manovra perché sai voi sapete che se voi state avanzando non con la fronte larga ma solo su certe direzioni del fronte comunque rischiate di creare le situazioni dove il nemico potrà prendervi di fianco voi dovete raddrezzare la linea e questo è il senso della strategia di base non bisogna dare possibilità al nemico di avere il margine di manovra cioè togliere da lui il territorio perché a parte nella strategia militare dovete capire una cosa che a parte avere i militari, mezzi corazzati, servizio di logistica e armi e munizioni è molto importante avere un territorio che vi permette di manovrare se voi con tutto questo che io vi ho citato con tutti questi strumenti siete chiusi in un angolo in una situazione dove non potete neanche fare girare la vostra testa e vedere cosa c'è al di fuori della vostra posizione non vi aiuterà mai potete avere anche tutte le armi del mondo vi faranno a pezzi se voi non avete margine di manovra per questo motivo i russi si avanzano con largo fronte nella regione di Kursk per questo motivo non vanno veloci perché se si avanza con largo fronte non si può andare con eccessiva velocità comunque i russi sono abbastanza dinamici rispetto a quello che facevano prima e ovviamente come ha detto anche Aptia Laudinov il generale capo di Ahmad i russi hanno preso 19 hanno liberato i 19 punti urbani ultimamente cioè questa è la cosa importantissima i numeri sono molto seri e qua il fattore di questa dinamica accelerata dell'operazione ha portato ovviamente al successo delle truppe russe e noi stiamo di fronte a una situazione dove il comando ucraino non è più in grado di prendere in mano la situazione e organizzare una difesa stabile i loro tentativi che loro hanno fatto hanno mandato due battaglioni di 47esima brigata meccanizzata sono stati distrutti ci sono anche foto, video i russi li hanno demoliti nel percorso non sono riusciti neanche a avvicinarsi alle zone d'operazione i russi li hanno individuati con i droni li hanno demoliti e questa cari amici è la agonia dell'esercito ucraino sul territorio di Kursk ancora presto dire di vittoria totale gli ucraini si trovano ancora in grande quantità e proprio per grande quantità di personale che si trova ancora sul territorio fisicamente i russi hanno bisogno di tempo per sezionarli per isolarli per prenderli negli accerchiamenti e distruggerli macinarli uno per uno piano piano quindi per questo serve ancora tempo io non penso che finirà tutto brevemente ma comunque è probabilmente questione di qualche mese però è molto importante che gli ucraini non hanno più nessun tipo di iniziativa e non hanno più la capacità di manovra queste sono le cose importantissime e ovviamente cari amici la cosa più importante è che grazie alle avanzate degli ultimi giorni gli ucraini hanno completamente perso la capacità di svolgere la loro logistica adesso arriveranno primi piogge e questa sarà una vera catastrofe e voi vedrete una tragedia in diretta perché io sono sicuro arriveranno i video arriveranno filmati arriveranno testimonianze dei prigionieri testimonianze dei stessi militari ucraini che come è successo a Ugledar chiederanno al comando ucraino il permesso di abbandonare quel territorio che loro non sono più capaci di mantenere perché non ricevono il sostegno, l'aiuto e la logistica e noi vedremo ripetersi stessa situazione secondo me i riparti ucraini nella regione di Kursk saranno abbandonati alla morte questo è già chiaro perché il comando ucraino a mio avviso già verso la metà di agosto ha capito tutto il fallimento di questa operazione se fossero intelligenti se fossero i comandanti ucraini un po' attenti a ciò che succede con i loro militari avrebbero sicuramente già ordinato alle truppe ucraine di iniziare una ritirata tattica perché cari amici uscire dalla regione di Kursk senza perdite è un'impresa bisogna organizzare molto attentamente e in maniera molto intelligente la ritirata da una regione del genere perché quando si schiude questo triangolo bisogna fare in tale modo che durante la ritirata il nemico non ti colpisce da nessuno dei lati perché come sapete durante la ritirata l'esercito è più vulnerabile gli ucraini non hanno più possibilità di farlo e questa sarà sicuramente una tragedia per loro da tutti i punti di vista il comando ucraino a mio avviso li lascerà li abbandonerà alla morte così come hanno fatto già in tutte le parti dove gli ucraini hanno cercato di difendersi dai russi come è successo a Mariupol, Bakhmut, Avdeevka, Uglidar come adesso sta succedendo a Tarjevsky e come succederà ancora in altri luoghi perché gli ucraini comunque cari amici per come sono adesso ridotti ormai sono costretti alla sconfitta è solo una questione di tempo vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre alla fine dei miei video vi invito di informarvi in maniera obiettiva su ciò che sta succedendo non solo in Ucraina ma anche in generale nel mondo nella geopolitica sul mio canale privato Telegram io condivido tutte le notizie che di solito vengono nascoste, strumentalizzate oppure censurate del nostro mainstream corrotto occidentale se volete abbonarvi al mio canale privato Telegram il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per la vostra preziosissima opinione per i vostri commenti per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene